Allora, io direi, un braccio a testa, i gambe, ragazzi, oh, lontano, uno, due, tre, ragazzi, vieni anche te, tu prendi nella testa, uno, due, tre, e uno, adesso arriva l'altro, practicing ultimo che ce lo dobbiamo si chiara bene, vai ti Ume vieni da i telefoni, vieni da i telefoni, vieni da i telefoni, e solo peggio, sentoci, oh, no la sei o debe tenerno un puntaggio anche quella, no no la sei a qua, ora pinè uno due tre mamma mia eh Luca che si dice? si dice che me la son roduta uno occhio due tre bastardi è calda l'acqua bastardi è calda Patrizio tranquino